Il nostro scopo è mettere la matematica a servizio della biologia e della medicina per studiare il modo in cui i tessuti biologici si trasformano a seguito di eventi traumatici o patologici. I tessuti che studiamo sono come spugne rinforzate da fibre di collagene, al cui interno scorre un fluido che porta nutrimento alle cellule. Quando un tessuto si trasforma cambiano la sua struttura interna, la sua morfologia e le sue proprietà meccaniche, da cui dipende l'integrità ed il corretto funzionamento delle cellule. Descrivere la meccanica dei tessuti, il modo in cui si muovono le cellule e le interazioni tra questi processi è di fondamentale importanza per supportare i protocolli di rigenerazione dei tessuti malati o danneggiati e per dare utili informazioni alla progettazione di tessuti artificiali. Il supporto offerto dal Bando Talenti ci permetterà di acquistare gli strumenti informatici necessari per risolvere problemi di calcolo molto onerosi. Inoltre organizzeremo eventi scientifici per scambiare idee e conoscenze con ricercatori di tutto il mondo. Creeremo anche delle opportunità per giovani ricercatori, dando loro la possibilità di esprimersi creativamente. Il nostro obiettivo è contribuire allo studio di patologie ad alto impatto sociale, quali i tumori e le malattie degenerative delle articolazioni. Mi chiamo Alfio Grillo e svolgo la mia ricerca presso il Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino.